19 dicembre 1972, rientra sulla Terra la missione Apollo 17, sinora ultima missione dell'uomo sulla Luna. Partita il precedente 7 dicembre, per la prima volta di notte, è comandata da Eugene Cernan. Nel corso delle 74 ore e 59 minuti trascorsi sulla Luna, gli astronauti raccolgono diversi campioni di suolo. Fra questi anche l'unico pezzettino di basalto lunare custodito in Italia. A regalarlo al governo del nostro paese è il presidente americano Richard Nixon. Il frammento, di meno di un centimetro, racchiuso in una bolla di vetro di 7 centimetri, è conservato al Museo della Scienza di Milano.